ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video tutorial sul course play su farmi simulator 19 oggi vedremo dopo la spinta quindi il livellamento e il compattamento dell'insilato vedremo come far sì che il nostro trattore stando sotto trincea arrivi qui a scaricare e scarichi in retromarcia dentro la trincea poi se ne vada e continua e continua a lavorare sotto trincea in modo da andare avanti appunto a continuare a fare scarichi in trincea mentre sempre il nostro t7 con il percorso che abbiamo già visto nello scorso video va avanti a livellare e compattare allora prima cosa da fare creiamo un percorso anzi vediamo un attimo discorso trincia per la trincia non ho fatto nulla di eccezionale semplicemente ho aperto un percorso anzi l'ho creato l'ho detto semplicemente di fare due giri di testate di campo come come sempre il centro del campo lasciato col classico su e giù e basta un percorso come sempre quindi niente di particolare ok quindi lasciamo qua che lo utilizziamo dopo come vedete io ho già trinciato un pochettino ci prendiamo il nostro trattore adesso andiamo a vedere come creare il percorso vero e proprio del trattore che quello che ci servirà per per il nostro scarico in trincea quindi è il nostro diciamo punto cruciale del tutorial ok andiamo sempre senza sempre senza rimorchio tasto destro del mouse iniziamo la registrazione del percorso e partiamo da bordo campo partiamo da bordo campo da più o meno in mezzo al campo in modo che se il carro si dovesse trovare pieno in un estremo o nell'altro estremo del campo comunque bene o male sempre a metà strada si trova non deve mai attraversare sempre tutto il campo nella sua lunghezza cavolata nel senso è solo una questione per cercare di risparmiare un po di tempo ma è uguale potete partire da dove più vi interessa lasciamo aperta la finestra del crossplay perché dovremmo dargli un po di impostazioni quindi partiamo ci spostiamo verso la trincea e andiamo a fermarci qua vicino alla trincea qua così ok perché ci fermiamo qua perché questo sarà il punto dove il trattore si fermerà ad attendere la manovra che sta facendo il nostro t7 che sta lavorando in trincea quindi il t7 lavora in trincea fa i suoi avanti indietro spinge tutto quanto e il nostro case con rimorchio si fermerà qui e attenderà alla fine della manovra l'uscita dalla trincea in modo da poter fare la sua manovra davanti alla trincea a fare la retromarcia ed entrare appunto a scaricare in trincea per far sì che il trattore si fermi qua in attesa ridiamo un punto d'attesa punto d'attesa che dopo noi lo imposteremo eccolo qua a 30 secondi è già attiva è già impostato perché ho fatto delle prove prima quindi gli lasciamo il tempo di attesa impostato a 30 secondi dopodiché noi da qua possiamo proseguire quindi il trattore è uscito dalla trincea noi iniziamo a fare manovra ci portiamo qua in mezzo andiamo abbastanza avanti in modo che il trattore che rimorchi e beno mare si raddrizzi anche se lui si è giusto e fa manovra però aiutiamolo un po tasto destro del mouse quindi diamo retromarcia quindi da qua iniziamo a fare retro e dobbiamo entrare col trattore fino dentro la trincea semplicemente perché dobbiamo dire al course play praticamente dov'è il trigger cioè dobbiamo portare il course play fino a dentro la trincea in modo che senta il trigger una volta che il nostro course play ha sentito il trigger gli diamo marcia avanti e andiamo appunto in marcia avanti qual è un problema dell'attuale versione del plus play quando arriva in retromarcia entra in trincea sente che c'è il trigger di scarico e inizia a scaricare il problema sta nel fatto che come parte a scaricare parte anche il trattore se ne va e torna in campo quindi mi fa tutta la strada in silato lungo il percorso che fa come andiamo ad ovviare a questo problema gli diamo un punto di attesa anche qua ma dobbiamo dargli un pochettino più avanti perché noi adesso siamo dentro quel trattore in trincea ma in realtà quando il percorso sarà in funzione sarà rimorchio ad entrare in trincea non il trattore quindi il trattore non andrà così tanto indietro si fermerà un po prima quindi per far sì che il nostro trattore parta in avanti e arrivi al punto d'attesa e si ferma il punto d'attesa dove appena è arrivato dobbiamo dare appunto il punto d'attesa proprio avanti quindi andiamo avanti proviamo un attimo a immaginare il nostro rimorchio collegato quindi il nostro rimorchio collegato qua più o meno dovrebbe già essere un pelo fuori dopo dovete fare le vostre prove però mi sto immaginando il rimorchio più o meno quanto è grande dove dovrebbe arrivare in questa posizione io dovrei avere un portellone del rimorchio già un pelo fuori dalla trincea quindi che cosa faccio vado avanti ancora un pochettino ok spero di essere sufficientemente avanti ma non esagerate e gli diamo un altro punto d'attesa poi vediamo se ho combinato una cavorata se ho sbagliato le misure o se va bene ma così dovrebbe dovrebbe andare bene quindi una volta che l'aveva andato il nostro punto d'attesa lui qua farà lo scarico finito lo scarico che resterà fermo 30 secondi quindi lì poi dovete fare un attimo i conti se avete un rimorchio più grande dovete magari dargli il punto d'attesa un metro più avanti più o meno però se vedete che i tempi di scarico sono più lunghi perché sono stato perché magari rimorchio una mod sono stati fatti dei tempi di scarico diversi più lunghi e tutto dovete aumentare il tempo impostato nel punto d'attesa in modo tale che finisca lo scarico altrimenti parte ancora mentre sta facendo lo scarico siamo arrivati nuovamente al campo poi gli diamo lo stop e noi abbiamo il nostro percorso registrato ora lo mettiamo in funzione e vediamo come lavora cominciamo con l'agganciarci il rimorchio anche perché abbiamo quasi finito ad impostare il curse play perché ci dobbiamo spostare adesso in modalità combinato su 83 via scarica presso deposito nel nostro caso il deposito è la trincea allora scusate ragazzi ma mi si era broccato shadow of play quindi in realtà stavo già registrando il tutorial ma mi si è appunto bloccato lo shadow of play si è fermato tutto quindi devo ripartire praticamente ve lo rifaccio e dunque vabbè ormai ho un po di insilato nel rimorchio ma non è ancora pieno quindi va bene lo stesso facciamo ripartire anzi facciamo partire perché voi non avete ancora visto i percorsi quindi troviamo dentro la nostra trincea infatti vedete che qui avevo cambiato delle impostazioni perché ero indeciso da dove ripartire a dove fare il taglio però ho detto vabbè ricominciamo da capo facciamo tutto nuovamente allora col percorso che abbiamo registrato nello scorso video facciamo partire il percorso all'interno della trincea quindi il nostro T7 è a posto vai benissimo facciamo partire l'operaio di nuovo alla nostra trincea avvia il percorso al punto più vicino ottimo abbiamo già registrato il nostro percorso che va fino fino alla trincea quindi a questo punto noi li diamo dalla modalità combinato dobbiamo passare in modalità combinato svuota trebbia e scarica presso il deposito e partiamo al punto più vicino in modo che si parta subito diciamo ad andare a scaricare la trebbia qui siamo all 85 per cento quindi non siamo ancora pieni ma ancora un pochettino e ce la dovremo fare ci mettiamo qua e facciamo partire il percorso la nostra trincea sta già andando se non vi parte il trattore che non rileva la trincea voi andate qui su gestione della trebbia e da ricerca automatica passate in ricerca manuale fate scegli trebbia switchate fino che trovate la vostra trebbia nel nostro nel mio caso ne ho una sola quindi siete a posto se non avete due trebbi e due trince uguali non sapete quale una quale l'altra perché ovviamente vi dirà due vi darà due voci uguali identiche qui vi segna anche a quanti metri di distanza rileva la trince in questione quindi se ne avete una in campo e una in farm quella con meno metri è la trince che vi serve che è quella del nostro campo nel nostro caso lasciamo ricerca automatica perché ho visto che prima l'ha rilevato senza problemi quindi una volta selezionata la nostra trince andiamo ad avviare il percorso al punto più vicino adesso vediamo un attimo che cosa fa partire è partito non so adesso da che punto parte vediamo un attimo proviamo a metterlo più vicino magari non ha sentito bene la trince parti da qua avvia il punto più vicino e niente lui ha deciso ah no ah si ah no non lo so ok adesso l'ha preso quanto fa smadonnare sto display ragazzi adesso vediamo se ce la fa ok ce la fa allora io vi consiglio adesso vi faccio vedere che a grandi linee funziona ma li dovete stare dietro nella raccolta io vi consiglio una volta che avete impostato il tutto che vedete che i percorsi funzionano vi consiglio di guidare la trincia voi trinciate e la guidate a voi perché se no si incastrano continuamente almeno finchè non sistemano crossplay o almeno finchè non cominciamo a parlare di autodrive poi vediamo che le cose possono anche cambiare allora comunque sia il nostro percorso è partito adesso ci agganciamo al tragitto che abbiamo registrato prima ok il nostro trattore è partito ora si fermerà il punto d'attesa e si fermerà aspettando appunto che il T7 tra virgolette si accorga che lui è arrivato se ne è già accorto è già uscito gli abbiamo impostato 30 secondi di d'attesa possono sembrare tanti adesso sembra che il nostro case stia aspettando per niente in realtà quando avremo più trinciato all'interno della trincea il T7 farà delle corse più lunghe e se non rileva immediatamente che il case è arrivato magari può darsi che ne faccia anche due di spinta quindi deve comunque avere il tempo per arrivare in fondo alla trincea ed uscire prima che il nostro case inizia a fare manovra quindi 30 secondi sono un tempo buono per iniziare vedete voi allora il nostro case è partito ha fatto manovra si è messo in mezzo alla trincea sta facendo la retromarcia è arrivato al punto di scarico parte lo scarico e come vedete nonostante che fosse partito lo scarico il tratore è partito anche in marcia avanti pronto per tornare in campo grazie al punto d'attese che gli abbia dato si è fermato termina lo scarico quando saranno passati i 30 secondi ripartirà e andrà sotto trincea Sam nel video tutorial che ho guardato questo famoso punto d'attesa per terminare lo scarico non glielo dava a lui funziona lo stesso lo scarico a me no non so perchè e l'ho risolto in questo modo poi insomma se ci sono modi migliori di lavorare ben venga vedete che adesso il nostro case se n'è andato il nostro T7 rientra in trincea e continua a spingere il nostro case si è fermato perchè vedete che ha qualche problema ancora grazie al QSK abbiamo impostato qualcosa ferma alla fine il punto di scarico è disattivo quindi lui non dovrebbe fermarsi a fine percorso dovrebbe continuare nessuna trebbia è disponibile dice non riesce a rilevare la trebbia proviamo ad andare in ricerca manuale gli dicevamo scegli la trebbia F2650 quindi la nostra nostalmash vedete che dandogli la trebbia in sezione manuale lui adesso l'ha rilevata anche qua c'è qualche problema da sistemare comunque vi dicevo vi consiglio di fare voi la guida di guidare voi la trincia perchè poi tende spesso volentieri ad incastrarsi adesso dovrebbe farcela aggirarsi ma vedete che quando arriverà la in fondo che tanto non penso che si riempia prima di arrivare la giù si incastrerà sicuramente quindi questo è da migliorare sicuramente un aspetto da migliorare questo se non so che di base funziona e devono migliorare le manovre a fondo campo quando la trincia va a fondo campo il trattore dovrebbe fare retromarcia e dare tempo di girarsi e poi andare sotto trincia di nuovo un po' come fa autodrive autodrive funziona in questo modo course play no ed ha dei problemi andrebbe bene se funzionasse la modalità evita cultura perchè se funzionasse la modalità evita cultura lui non sarebbe qui a trinciare in questo momento ma avrebbe fatto una manovra diversa si sarebbe messo fuori la trincia usciva girava a sinistra e il trattore faceva manovra e gli si affiancava di nuovo in questo modo adesso vai tranquillo che bam eccoli qua eccoli qua che loro si sono incastrati adesso vediamo se se riescono a tirarsene fuori se volete risolvere questo problema voi girate sempre intorno al campo come abbiamo fatto con la traviatura automatica perchè era l'unico modo per riuscire a far si che non si incastrasse tutto infatti vedete perchè perchè la raccolta del prodotto in campo ha ancora dei seri problemi se invece trabiamo noi una volta che vediamo come fa la manovra il trattore automaticamente noi ci adattiamo e riusciamo diciamo a lavorare continuamente senza mai scendere e senza incastrarci continuamente dovremmo penso arrivare al pieno ok ci fermiamo e andiamo avanti così ragazzi altro scarico poi ragazzi se voi siete riusciti a risolvere e sono io che sbaglio potete dirmelo tranquillamente perchè ci può stare che sono io a sbagliare vedete che in questo caso il trattore è andato a fare una nuova corsa nonostante noi eravamo vicini se doveva arrivare in fondo e tornare indietro chiaramente ci avrebbe messo un po' di più quindi ecco perchè gli impostiamo uno scarico di un tempo d'attesa di 30 secondi aspettiamo che passino di 30 secondi che sostanzialmente comunque il percorso interessato vedete che funziona quindi lo scarico automatico all'interno della trincea funziona se sistemano due o tre cosette con il cruise play funziona anche la trinciatura sotto cruise play finchè non la sistemano la facciamo noi quindi conviene che guidate voi come vi dicevo prima manovrina fatto retro è arrivato un trincea è partito lo scarico è andato avanti si è fermato al punto d'attesa che gli abbiamo impostato fa lo scarico e via così ragazzi questo il case parte va di nuovo sotto la trincia e il t7 parte in spinta insirato è avanti così finchè non finisce il campo andare avanti ulteriormente direi che è inutile per questo tutorial direi che è tutto prossimo tutorial penso che vi farò vedere una trebbiatura con due trebbie dove voi seguite con il raccogli grano servite lo scarico delle due trebbie vedete che adesso funziona quella selezione manuale servite con il raccogli grano le due trebbie le andate a scaricare scaricate su un rimorchio a bordo campo che andrà direttamente in scarico al vostro deposito al vostro silo su punto vendita quello che volete magari ce la fa ad arrivare ok perfetto possiamo partire e così anche in quel caso lì voi seguite le trebbie fate lo scarico delle trebbie andate a bordo campo e lo scarico ai siros sarà automatico così se siete a due chilometri da casa non perdete tempo correre avanti e indietro ma vi godete semplicemente il gioco in questo caso fate così voilà se guidate voi vedete che non vi incastrate ti dargli il tempo che arrivi ok e a posto al prossimo tutorial ragazzi ciao ciao a presto a presto